buongiorno ragazzi benvenuti o bentornati sul canale parte una nuova giornata in sardegna il quinto giorno siamo diretti alla spiaggia di tuereda e se tutto va bene andiamo anche alla spiaggia di kia oggi allora siamo entrati nel comune di teulada ragazzi qua oltre queste colline è tutta area militare un poligono praticamente che si estende per diversi chilometri circa 7 chilometri quadrati e praticamente qua ci sono le spiagge ovviamente inaccessibili incontaminate raggiungibili solo via mare che non riusciremo a vedere come porto zafferano e altre piccole calette ma dalla quella parte di costa in poi ragazzi inizia la meraviglia è una spiaggia più bella dell'altra dove siamo diretti a spiaggia di tuereda e spiaggia di kia vedrete la meraviglia del vero mare della sardegna questa zona da sant'antioco a cagliari ragazzi è qualcosa di pazzesco bellissima c'è capo malfatano c'è il sito archeologico di nora che risale ad epoca preromanica ci sono delle spiagge tra le più belle d'europa e il territorio sia litorale che interno è veramente bellissimo selvaggio con queste colline importanti 3 400 metri che arrivano sul mare un mare veramente cristallino ragazzi guardate che vista là in fondo sant'antioco proseguiamo verso la spiaggia di tuereda e come sempre anche la strada è davvero davvero notevole anche questa che costeggia il mare guardate che asfalto e che curve strepitosa guardate che vista pazzesca come sempre Ragazzi ma questa è poesia pura Ma che posto è Musica 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 Abbiamo appena incrociato la macchina di Google che riprende molto presto sono le 8.30 E quindi a quest'ora non c'è nessuno in giro e praticamente prende traccia della street view che si può vedere su Google Maps E ci ha inquadrato adesso aspetto solo qualche tempo penso che nel giro di qualche mese carichino le immagini aggiornate E se zoomate nella zona di Porto Teulada Troverete noi che passiamo durante le riprese di Google Maps No vabbè ma che panorama ragazzi C'è qua è da perdere gli ultimi capelli che ho Musica 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 ma siamo in sardegna a questa già sardegna mi pareva madonna mia che bello è pieno pieno di calette di insenature alcune con roccia alcune con sabbia mamma mia ma è un paradiso questa costa ragazzi guarda questa madonna mia che roba è guarda che mare madonna mia che meraviglia ma cos'è questa roba qua eh sì questa si paga almeno aspetta perché sì c'è il parcheggio guarda che roba si passa sotto questo ponte è però interessante anche questa solo che non c'è uno stabilimento cioè se devo pagare il parcheggio per non avere manco i servizi eh adesso si è già un orario dove sarà pieno Veronica dice è già un orario dove ci sarà tanta gente nel parcheggio sono le nove meno un quarto siamo quasi arrivati eh ma ragazzi che strada che strada c'è anche qua secondo me molto più bella dell'alghero bosa che è bellissima ricordiamolo è bellissima ma guardate qua c'è sembra di essere nella baia di rio de è già nero qua ma dove siamo questa ragazzi è capo malfatano guardate che meraviglia che spettacolo è una penisola che divide due mari si tuffa a largo del terreno mamma che bello siamo spettacolo è la spiaggia di Tueredda io mi metterei qua tra lo stabilimento e l'ingresso così siamo vicini uno all'altro che pace ragazzi questa è spiaggia Tueredda con l'isolotto di fronte è la sabbia bianca l'unica zona dove si può fumare è il piosco oppure fuori dalla spiaggia è vietato fumare l'unica zona dove si può fumare è il pio il parcheggio per le moto costa 6 euro tutto il giorno anche se state 10 minuti per le automobili 10 euro ci sono due aree parcheggio molto ampie ovviamente finito di riempirsi non c'è più possibilità di accesso alla spiaggia ma comunque accoglie almeno un migliaio di persone è abbastanza grande di fronte c'è questo isolotto meraviglioso l'acqua è stupenda ragazzi abbiamo trovato questo angolo di ombra sotto queste piante perché ragazzi è luna e ci saranno 40 gradi un caldo atroce adesso vado a farmi un bel bagnetto vi faccio vedere qualche altra ripresa in acqua con una luce diversa il sole è proprio perpendicolare a quest'ora andiamo a vedere a presto e i Grazie a tutti. Capo Malfatano ragazzi stiamo rifacendo la strada a ritroso che abbiamo fatto stamattina alle 8 e mezza guardate che spettacolo sono le 18 abbiamo 38 gradi abbiamo passato alla fine tutta la giornata alla spiaggia di Tuereda perché è troppo bella ragazzi si stava da dio ci siamo trovati un posticino sotto le piante abbiamo condiviso la giornata con con dei simpaticissimi sardi che vengono qui spessissimo proprio sotto quelle piante di buon mattino prendono posto e passano del tempo meraviglioso in queste zone quindi Kia domani cercheremo di visitarla oggi però era troppo bella la compagnia il posto e abbiamo deciso di stare tutto il giorno a Tuereda tanto abbiamo da passare altri 3 giorni in queste zone e abbiamo tempo di visitare le spiagge più belle guardate che posto ragazzi guardate che meraviglioso guardate che meraviglia la strada questa panoramica sulla costa sud della Sardegna che da Sant'Antioco arriva a Villa Simios è una meraviglia veramente senza parole ragazzi guardate che spettacolo guardate che roba Sardegna adesso ovviamente non ci sono benzinai su questa tratta di strada dovremmo fare una piccola deviazione verso Teulada Teulada nell'entroterra non porto Teulada poca roba parliamo di una deviazione di 3-4 km dove riusciremo a fare benzina in modo da assicurarci l'escursione di domani senza dover perdere tempo di primo mattino abbiamo mangiato al chiosco che ci sono due chioschi a Porto Tuereda ovviamente prezzi sopra la media però hanno tutto quello che può occorrere qualora vi dimenticaste di prepararvi un pranzo da casa o di portare una semplice bottiglia d'acqua diciamo i prezzi sono ovviamente molto turistici quindi una bottiglia d'acqua da un litro 2,50 euro una fettina di pizza 6 euro e quindi insomma caro però in linea con il meraviglioso posto la location è senza dubbio esclusiva e quindi se venite qua potete sicuramente organizzarvi per tempo e portarvi un pranzo al sacco e magari se avete spazio in moto anche un piccolo termos per tenere l'acqua fredda perché ragazzi il problema di stare dalla mattina alla sera in spiaggia è questo caldo atroce davvero provante davvero qua si rischia l'ustione e si rischia di prendere un'insolazione anche a livello di testa e quindi bisogna coprirsi adeguatamente almeno le ore più calde, le ore centrali cioè non si può stare al sole dalla mattina alla sera però l'acqua bellissima, limpida, calda riva più si va avanti poi si percepiva la freschezza un mare stupendo abbiamo visto stamattina passando da qui queste due calette una si chiama Piscinas e l'altra più piccola devo informarmi perché non mi ricordo il nome è una molto piccola senza ticket diciamo non c'è parcheggio quindi il primo che arriva alloggia ed eccoci questa è Piscinas o Piscini adesso non mi sovviene è Piscini mi pare si chiami si è un po' più esposta come cala diciamo esposta al vento però molto bella ragazzi qua c'è il parcheggio a pagamento alle spalle si passa sotto e si arriva alla cala le tariffe sono più o meno le medesime dai 2 ai 10 euro dipende se avete macchina o moto guardate che mare bellissimo e proseguendo troveremo quella piccola caletta eccola la si vede da qua quella è molto bella molto bella domani mattina facciamo Kia poi tornando perché a Kia non c'è ombra a differenza di Tuereda dove qualche c'è spuglio c'è mi hanno detto questi simpatici signori che saluto se guardano questo video vi saluto ragazzi vi abbraccio a Ivo e compagnia molto simpatici tutti sardi e mi hanno spiegato appunto che a Kia non c'è ombra e quindi se non si ha l'ombrellone è un problema anche per questo abbiamo deciso di restare a Tuereda domani mattina se andiamo a Kia presto quando poi il sole si alza che iniziano a salire le temperature verso le 10 e le 11 veniamo via anche se paghiamo il parcheggio la giornata intera non è eccessivo sono 5 o 6 euro e veniamo qua se riusciamo perché ovviamente vedete quanta gente c'è anche qua però con la moto un buco si trova proviamo insomma la teoria è questa poi come sempre eccola qua bellissimo la pratica poi è sempre diversa però insomma in ogni caso vedremo posti meravigliosi come sempre alla fine la prima Sì, guardate, 42 gradi, 42 gradi, guardate che vista, magnifica, è un brivido, è un brivido. Siamo arrivati in stanza, adesso andiamo a fare un po' di spesa per stasera e domani a pranzo e poi ci rilassiamo e poi mi metto a montare questo video. Allora, come vi dicevo, abbiamo fatto un po' di spesa e fuori dalla stanza, come vedete, ci siamo attrezzati, panzerottino, pomodori, ricotta, una bella birra sarda e knusa, cruda. All'arrogante. 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 Buon appetito, buon appetito ragazzi. Ragazzi, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e invitarvi a mettere un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo domani, penso che riusciremo a vedere la spiaggia di Chia, lo spero, e altre meraviglie della Sardegna. Ciao. Ciao.